Ragazzi oggi vi presento la patata magica, la patata che emette corrente elettrica, guardate cioè, non so se vi spiego, guardate, emette corrente e in più si brucia nel punto in cui, ma con qualsiasi cosa eh, basta anche, guarda, con questo è un po' meno, mi ha messo con una matita che può essere graffite, mette pure con una matita, emette corrente elettrica, cioè la rivoluzione del mondo ragazzi, la rivoluzione del mondo, qua diventerò ricco, vedete, la patata prende, la patata lessa è comune, potrei aprire, vedete, però quando, ah, guarda, guarda, guarda come mi conduce, guarda, guarda, fantastico, ragazzi, la patata dell'energia, non sapevo io, trovavo qualcosa, guarda, guarda, la patata dell'energia, cioè, so se mi spiego.